E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Già lo sapete prima di iniziare, un bel pollicione in su e ricordatevi anche di iscrivervi al canale perché manca davvero poco ai 300.000 iscritti. E attivate anche le notifiche perché ragazzi la campanellina e le notifiche purtroppo non funzionano, quindi attivate la campanellina. Oggi ragazzi video di Fortnite insieme allo Xyuderone dove abbiamo concluso con ben 26 kill totali, di cui 23 mie e 3 sue. Una partita spettacolare ragazzi, quindi non potete perdervela, mi raccomando godetevela al massimo e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ricordatevi inoltre ragazzi di seguirmi sul mio profilo Instagram e anche su Twitch, trovate i link qui sotto in descrizione per non perdermi mai nessun tipo di news e per non perdermi mai nessuna live streaming che praticamente faccio tutti i giorni dalle 10 fino alle 17, a volte anche di più. Quindi tutti i link in descrizione. Adesso ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi il video. Buona visione. Dove atterriamo? Nel capannone? Tu ce la fa? No io vado in mezzo e poi la raggiungo. Oh c***a Marti. Eh lo so. Arrivo da lei. Ho 4 flash. Io non ti sono fuori da lei. Venga qua. Venga qua, venga qua, venga qua. Venga qua, venga qua, venga, 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 venga. Venga qua. Qualcuno da me? È tutto con lei. Ah non lo spassa, ma tu no? Spacchi, 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 spacchi. Morto. Le lascio il pompa? Oh, lo spassa. Ho preso il pompa. Ok, buona. Sono sopra, giusto, sì. Così saliamo da qua? Buona idea. C'è la cassa di Iron Man, la apro un secondo. Sì. Mazzu, 11 metri, grazie mille. Io l'acqua non fa niente, vado, prendo l'assalto bianco, piuttosto. C'è gente qua fuori, allora. Non abbiamo fretta, eh, con calma. No, ma voglio farli fuori tutti. Morto? Morti? C'è andati? Sì, sì, tutti e due. Morto? Morti? Andiamo al volto, che si parla. Ah, però lei. Gente? Sì, sì, sì. Scusi. Apro. Morto? 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 Sicuri? Oh, c'è il fiore di te. No, 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 lasciamolo stare. Ok, ma era figo, ma c'è la fuga. No, dobbiamo fare più mi player. Non è ucciso. Muore. Morto? One hit. Let's go, Marty, distrutto. Prendiamo l'R.P.G. Ma possiamo usare quest'arma contro il player? Sì. Vedo, vedo, pericato il colpo. Morto? Colpi l'R.P.G., Marty. Venga. Passo, li prendo. Ho fatto la prima fase. Ma non come? Andiamo. Non potrebbe stare quello, però. Scusi, ho visto, 50 euro. No, ho notato, ho notato. Sparano. Ma dove? No, 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 vai. Andiamo, andiamo ad ammazzare. Dove sta? Lì, Marty. Ah, c***o, sono due. 32. No, non lo finisca se se l'è fatto. Se l'è fatto? No, venga qua. Arrivo. No, parla dietro. Eh, sì. Grazie. E dove c***o è l'altro? Non lo so. 35, 35. Andiamo a prendere quel fallito. Arrivo, 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 arrivo. Il socio dietro di me. Ci sono, Marty, ci sono. Eh, ma devo... No, 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 devo ammazzarlo. Non posso, non posso. Non c'è problema, non c'è problema. Ma ho portato a casa sto game. Cioè, ho 15 kill. Davanti a me. In the bush. Vediamo se gli arriva. Rotto, rotto, rotto. Graviglioso quanto fa. Forse lo cito. 90. Come... Non posso dirlo. Non può dirlo. Noccato. Roccio, Roccio che arriva. Mi sparano. Malissimo. E' l'ultimo. 198. Mi scusi, mi scusi, mi scusi. Questi versi stai, mi scusi. Non faccio questi versi, infatti. Dai, scusi, 17 kill. Andiamo! E' io qua sono. Dai, no! Sono full? Dov'è la gente? Non c'è un problema tecnico. Devo andare a curare? Ma se non c'è dove sono, non posso utilizzarlo. No, no. Quello solo deve tenere tipo... Brava! Tutto lo giù. Allora, chill the f*** down, ok ragazzi? Easy. Ti ricordi che lei attraversa le strutture, eh? Bello questo 90 blu. Non è proprio io. complimenti 20 kill cassa maybe ci dobbiamo per ora bene questo splash se la faccio subito rpg aveva questo marty questo simon non lo voglio con lager ah due body c'è te muore devo fare due body morto 1v2 eccolo lì a sinistra ciao giorgio grazie per il livello 1 che game xy adders oh mio dio non è così croabot oggi eh grazie ice per le 100 patatine gg 23 anche oggi complimenti 23 kill ha fatto il tiro alla quaglia ha fatto porca trota mi dia un secondo che voglio dare un'occhiata a due cose vada 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 bella partita raga bella partita da canale da canale 100% grazie a tutti grazie a tutti sono